Crescere Sani è un progetto che continua e che sta dando grandissimi risultati nella tutela dei più deboli, vale a dire i bambini che sono, il nostro futuro. Assolutamente sì, Crescere Sani sta guardando con grande attenzione a questa provincia che il Verbano Cusiossola perché ci sono veramente delle realtà bellissime. Abbiamo premiato recentemente Gravellone e Verbagna per la loro attenzione nei confronti dei bambini. Abbiamo in esso, in atto, questo progetto collaborativo col provveditorato che ha visto coinvolti 1200 bambini, 100 insegnanti, 70 scuole. Un successo veramente insperato, dei lavori fatti da questi bambini meravigliosi, un grande lavoro degli insegnanti, un grande lavoro del provveditorato, un grande lavoro di coordinamento della scuola in ospedale. Sono lieto come Crescere Sani deve veramente un bollino di premio. Oggi il sindaco di Gravellone e l'assessore al bilancio di Verbagna chiedevano di fare una provincia per il Crescere Sani. Io credo che questa sia veramente una provincia speciale per l'attenzione nei confronti dei bambini e dei confronti quindi anche delle famiglie e della prevenzione delle malattie successive per l'atadulta. Gravellone a Toce con Verbagna si sono laureati come due comuni molto virtuosi dal punto di vista della crescita sana dei bambini. Ma sì, è stato un riconoscimento che abbiamo ricevuto tempo fa perché è stato verificato che rispetto al decalogo che l'associazione Crescere Sani Onnus ha definito rispetto agli stili di vita nella nostra comunità, ci sono già moltissime attività che sono coerenti a questo decalogo. E questo per noi è stato un grande orgoglio. Le scuole di Verbagna si sono rese grandi protagoniste, è stato un progetto molto bello anche perché al centro ci sono i bambini e il Crescere Sani è fondamentale. Sicuramente sì, abbiamo visto nei bambini comunque un grande entusiasmo anche perché ad esempio nella nostra scuola si lavora già da tempo su quello che è stare bene, che non è soltanto lo stare bene magari perché si hanno tante cose, ma proprio perché si va a scoprire quella che è una realtà della vita, che va allo sport, si lega anche a quella che è una sala alimentazione, volersi proprio bene a 360 gradi.